Si erano rivolti a noi Francesco Zanin e Sidi Rodighiero, figlio e fratello della signora Maria Rodighiero, deceduta il 15 luglio scorso. Parenti che attendevano in nulla osta per la sepoltura della congiunta, vista l'autopsia disposta dal magistrato e che invece hanno appreso soltanto all'inizio di settembre che la donna era già stata sepolta d'ufficio in terra come riservato alle persone indigenti e sole. L'ordine di sepoltura era arrivato direttamente dal comune di Bassano, servizi sociali. Assessore ma come è potuto accadere una cosa simile? Siamo molto dispiaciuti per quanto è successo e siamo vicini alla famiglia quindi al figlio e al fratello della signora Maria e avrei anche piacere di incontrare i due signori. Ecco ma vi siete, avete capito un po' che cosa può essere successo? Si tratta di un malinteso increscioso, stiamo valutando tutta la documentazione e cerchiamo di capire bene dove c'è stato l'inghippo burocratico. Qualora emergessero responsabilità ben precise si vedrà come procedere. Ecco sappiamo che la famiglia ha anche chiesto la riesumazione del corpo perché non era neanche quel cimitero dove avrebbero voluto che lei riposasse ma comunque assieme ai familiari. Certo vedremo cosa fare e anche per questo avrei piacere di parlare con i cari della signora. Ecco per quanto riguarda invece noi sappiamo che c'è stata un'acquerella denuncia contro il comune. Ecco in questo senso come vi state adoperando? I nostri legali hanno in mano la denuncia e decideranno in base a quello che emergerà cosa fare. Insomma staremo a vedere anche noi che piega prende questa strana triste particolare vicenda mentre i familiari sono decisi anche a chiedere il risarcimento per danni morali.